Energia, sperimentazione e imprevedibilità, questi gli ingredienti principali dello spettacolo Salvo Buonfine, fresco di debutto al Teatro Brancaccino, dove sarà riproposto fino al 22 novembre. Già vincitore del premio alla drammaturgia contemporanea del Duit e finalista al nuovo premio Teatro Traiano, il testo scritto e diretto da Giancarlo Nicoletti rappresenta uno scavo nel residuo di quel perbenismo capace ancora oggi di condizionare le vite delle persone e le loro scelte. Il spettacolo ha avuto una gestazione lunga, ho iniziato a scrivere lo scorso anno e doveva andare in scena quasi subito, poi è entrato in un giro di premi nazionali, il premio Cappelletti prima, il premio Traiano, il premio alla drammaturgia dell'articolo, che quindi per regolamento ti obbligano a tenere lo spettacolo inedito. È nato in poco più di due o tre settimane, è stato scritto e poi è rimasto più o meno quello che è. Poi la verità è che giusti questi tempi abbiamo slittato il debutto proprio credo di un anno solare esatto alla data della fine del copione. Un'indagine sui sentimenti, ma anche sull'ignoranza e sui sensi di colpa, con l'amore impossibile tra i personaggi di Salvo e Lorenzo. Un rapporto destinato a stravolgere le vite di entrambi, scandite da eventi tanto potenti quanto indecifrabili. La storia è stata ispirata da varie cose, da varie persone che sono entrate in contatto con me, che ho conosciuto e che mi hanno raccontato le proprie storie. Ho rubato un po' le loro vite e sono diventate queste istantanee contemporanee, che è poi il sottotitolo dello spettacolo. Cosa dovrebbero cogliere di più gli spettatori vedendo questo spettacolo? Quali sfumature? A me piace un teatro per livelli, dove comunque chiunque viene può trovare qualcosa. Quindi se viene una persona di 70 anni, trova A, una persona, un addetto ai lavori trova altro, un drammaturgo trova altro ancora, una persona, un intellettuale trova altro. Penso che tutti possano trovarci qualcosa.